Con un vero e proprio colpo di coda nel fine settimana il Pescara trova il suo numero uno. Nella tarda serata di ieri il DS Dell'Icari ha portato a termine l'acquisto a titolo definitivo del portiere Alessandro Plizzari che si lega al Delfino con un contratto di tre anni. Originario di Crema, classe 2000, cresciuto calcisticamente nel Milan, è stato anche ritenuto un predestinato, uno che avrebbe potuto competere o raccogliere l'eredità di Gigio Donnarumma al Milan, aspettative che forse lo hanno danneggiato. Oltre che essere stato terzo e in alcuni casi secondo portiere del Milan, Plizzari ha cercato spazio con dei prestiti in Serie B collezionando 53 presenze con le maglie di Ternana, Livorno, Regina e nell'ultima stagione Lecce, appena tre gettoni e una promozione in A. Per lui anche la trafila delle nazionali giovanili e quattro presenze in Under 21. È una fase decisiva per la carriera di Plizzari, per la prima volta scende in C e chiude il suo legame contrattuale col Milan. È il momento di dimostrare il proprio reale valore e chissà che non ripercorra le gesta di Fiorillo che dopo gli inizi con grandi attese, si parlava del nuovo Buffon e una fase di grande precarietà, a Pescara ha trovato una dimensione importante. Si completa dunque il nuovo trio di portieri dopo gli innesti di Daniele Sommariva, arrivato dal Monza nell'operazione Sorrentino e Andrea Daniello, giunto da Svincolato dopo aver chiuso col Cagliari Primavera. Resta ora da colmare il vuoto ancora presente nel vertice basso di centrocampo, una lacuna in minima parte colmata con l'arrivo di Erdis Craia che nei prossimi giorni sarà ufficializzato, anche se nel ruolo il preferito del DS Biancazzurro è Andrea Ghion che potrebbe risolvere anzitempo il prestito al Perugia. C'è poi la pista Salvatore Aloi dell'Avellino che però risulta ancora bloccata, soprattutto per la mancanza di un accordo tra il giocatore e la società irpina. La situazione però può evolvere in maniera positiva nei prossimi giorni. Aloi può fare il vertice basso ma interpreta ancora meglio il ruolo di Mezzala e contando che un posto è occupato da Mora, l'altro se lo potrebbe contendere con i giovani Jabua e Germinario. Si attende anche l'ufficialità del difensore Pellacani dalla Virtus Verona per un reparto già comunque abbastanza fornito e che potrebbe avere ulteriori necessità in caso di uscite di Veroli o Ingrosso. Intanto seppur con un amichevole e a un mese circa dalle prime gare ufficiali da domani si tornerà a parlare di calcio giocato col nuovo pescara di Alberto Colombo che avrà un test molto duro allo stadio Angeli di Panela alle 17.30 contro la Dana Demir Spor, club della massima serie turca. Poi mercoledì 27 luglio il Delfino chiuderà il ritiro nel San Graventino con una amichevole contro la Delfino Curi.